Signore e signori, Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi. Che meraviglia, ma che bella presentazione. Prego, prego, ti accompagno affinché tu possa scendere senza causarti gravi traumi. Eccomi qua. Un Polifemo Eventi davvero speciale in quel di Palagiano, provincia di Taranto, con uno show, con una performance, chiamatela come volete, con Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo. Un evento voluto dall'amministrazione comunale che rientra nel cartellone estivo. L'emozione di avere al mio fianco alcuni artisti correva l'anno 92-90. Io ero studente universitario e ricordavo Totiettata, Peppino, e ora ce l'ho al mio fianco. E' un'emozione, Emilio. Questa sera su cosa ci farete sorridere? Perché poi, in fondo, dopo tanti guai che l'umanità sta avendo, un sorrisso, come si suol dire, il sorrisso allunga la vita, non solo la telefonata. Grazie, è peccato non poter dire la stessa cosa, perché mentre tu eri studente universitario noi facevamo altro, quindi non abbiamo potuto godere delle tue performance allora, mentre adesso sì che godiamo delle tue performance. Penso ancora ai telefoni lanciati, no? Peppino famoso. Certo, meravigliosi anni di grande divertimento. Stasera parleremo della Puglia, sai com'è? Noi abbiamo due punti di vista privilegiati, di chi è dovuto andare via dalla Puglia, ha voluto andare via, adesso vive a Roma e guarda la Puglia, come dire, anche dall'esterno, e chi invece ha scelto anche di rimanerci in Puglia, per cui vive la Puglia dall'interno. Però il legame c'è sempre. Il legame è assolutamente indissolubile, che dimostra, anzi, questa cosa, il fatto che tutto il Pudici puoi rimanere, capito? Ma quello è una cosa che non si interrompe. Arrivo in tutto il mio splendore su questo splendido palco. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Grazie per aver accettato questo invito. Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro entrate e le loro uscite e nella vita ognuno interpreta molte parti. Così William Shakespeare in una delle sue commedie più famose. E questo noi faremo stasera. Parleremo di noi, della nostra umanità e anche della nostra straordinaria e meravigliosa regione. Una regione che ormai è conosciuta in tutto il mondo. Per farlo lo faremo in compagnia di un grande attore. Adesso io vorrei per lui un applauso da Standing Ovation. Il teatro... No, aspetta, fatemelo prima a presentarvelo. Che maniera. Il teatro... Ah, un saluto anche a quelli oltre la barriera. Guardala, sono là. Buonasera. Buonasera in piedi. Mi dispiace. Buonasera. Vi vogliamo bene comunque anche a voi. Anche se siete poveri, meritati, insomma siete persone. Vi vogliamo bene. Ecco qua. Ciao. Grazie a tutti. Buonasera anche a questi che stanno qua da oggi pomeriggio alle 5. Si sono portati alla sedia da casa. Avete fatto bene. Cercheremo di stare più indietro in modo tale da far vedere lo spettacolo anche a voi. Dunque, voglio un applauso da... Buonasera a questi che sono all'ambito, pure loro, tutti quanti amici del tabaccaio. E allora, cominciamo. Applauso scrosciante. Applauso per le grandi occasioni per un uomo per il quale la sua casa è il teatro. Il teatro è la sua casa. Anche perché ha problemi di mutuo. Bentornato in Puglia ad Emilio Solfrizzi. Io lo sapevo che c'era la fregatura. Io lo sapevo che c'era la fregatura. Buonasera. Buonasera a tutti. Che meraviglia. Che bell'essere appalaggiare. Ma ci due avevate... Che gioia essere. Fatevi sentire. Ma che chiamavo gli Ultras. Grazie, grazie. Applausoni che non finiscono poi uno. Devo dire, io che faccio il comico di professione, è proprio divertente vedere 120 sedie, uno qua, uno là, e dietro, tutto ammassato. È un piccolo controsenso. È un piccolo controsenso. Però va bene. Va bene, però... La gioia di avervi. Buonasera, anche lì in fondo. Buonasera. Adò stai. Prima si era affacciato uno guagnolo. No, no, è andato via. Era una coppia. No, perché ci sono ritirati. Un signore che mi ha detto, io ho acquistato nel 98, sapendo che nel 2021 sareste venuto a fare lo spettacolo. Però adesso si è ritirato. Loro invece sono in una corte guardata. Eccoli, vado. Sembrano Romeo e Giulietta che si sono sposati. E che muovivano... Buonasera. Buonasera. Quelle Romeo e Giulietta stanno insieme ai genitori, gli agnolotti e i capelletti. Quelli là stanno lasciando. Avete mangiato? Avete mangiato prima di... Ah, pure sì. È una cosa nu, nu proprio. Antonio Stornaiolo, mi sono sempre domandato, ma quelle battute come nascono? Perché lì per lì sembrano sorridere, uno sorride, però c'è tutto uno studio dietro. Il piatto bello è pronto e, come dire, richiede una certa preparazione. Entrambe le cose, come tutte le cose buone, come tutte le ricette che vengono bene, ci sono gli ingredienti base che rendono il piatto succulento, ma ciò che rende il piatto speciale rispetto agli altri è il fatto che a un certo punto ti viene uno schizzo, ti viene una... Un'ispirazione, il sacro furore della comicità. E basta mettere quel tocco di pepe in più, oppure quella spezia che prima non avevi immaginato di mettere, e diventa un piatto strepitoso. Così è anche per noi, avevamo un copione che seguivamo, abbiamo ancora oggi, dopo tanti anni, un copione sul quale ci cimentiamo, però puntualmente... Non dimenticarcelo, insomma. Ogni volta che entriamo in scena è come se fosse la prima volta. Buona serata anche a voi! Che è bello, che è bello! Grazie, grazie di questa accoglienza, è una cosa meravigliosa. Ah, è bella! E la Puglia è bella per questo, perché ci si ritrova in comunità. E sai che ti dico? Io non approfitto per darti il bentornato in questa regione. Grazie, grazie, grazie. Io lo so perché questa è una cosa... Ovviamente sapete probabilmente che io non vivo in Puglia, sono abito a Roma, ormai da tant'anni sono più di 22 anni, capito? E lui ogni volta che io torno in Puglia, lui mi prende in giro e fa bentornato in Puglia. E' la verità, io sono felice. Eh, no, però voglio dirle, io so, sapevo che ci stava il sindaco, ho visto che ci sta una rappresentanza meravigliosa, queste ragazze anche che ci hanno presentato, erano proprio belle e importanti. La maniglia pure. La maniglia? La maniglia, quella che ha aperto la serata. Quella che ha aperto, uno che si chiama la maniglia non poteva che aprire la serata, eh, certamente. E il vice sindaco, Otto Manelli. No, però, uno che vale otto. No, scusa, fammi parlare un attimo, perché lo voglio dire alla rappresentanza, io sono andato via dalla Puglia, 22 anni fa, 22 anni fa, lo dico, però noi dobbiamo essere onesti, perché io, a me mi prende in giro tutto, 22 anni fa, vice sindaco, signora Maniglia, assessore Rollo, che pure Rollo non è male, ecco, ma piace pure Rollo. Beh, Rollo è un bel ricordo di infanzi per lui. Esatto. Un legame fortissimo, un legame umano bellissimo tra di voi. Sì, 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 credo che sì. Avete litigato anche qualche volta, perché già tra moglie e marito ci si arrabbia. Io credo che proprio il segreto del nostro rapporto è che noi forse litighiamo continuamente, ma la cosa più bella è anche fare pace, capito? Perché rappresentare un proprio punto di vista non è facile, capito, in un mondo in cui invece tutti ci si omologa facilmente a un pensiero dominante. No, noi ci divertiamo molto, noi litighiamo pur sul palco, capito? E pur sul palco facciamo pace. Noi, vedi, a volte ci capita l'assurdo di essere moltissimo amici, tantissimo sul palco, perché ci si riconosce, ci si annusa sul palco. Ecco, si sente l'odore l'uno dell'altro. Chi è il più... beh, sudati magari. Vinti anni fa, io lo dico, vinticinque anni fa, noi dobbiamo essere onesti. In Puglia non succedeva niente, non succedeva niente. La Puglia proprio era, diciamoci questa verità, la Puglia era la cenerentola d'Italia. Hai ragione. Non la volevo niscere. Eravamo la provincia dell'impero. Brava, noi eravamo l'endano, l'endano a Roma, non sapevano proprio di noi, anche le decisioni politiche. Non a caso, ci chiamavano terroni a noi. Sì, eravamo quelli del sud, del profondo sud. Vabbè, ma io non volevo fare una lamentela, dicevo un dato proprio storico. La Puglia era l'endano, era proprio una regione. Perciò uno che voleva fare l'attore, uno c'è, spesso la Puglia, diciamo così, non ti dava quelle opportunità. Quelle occasioni. E invece a mo' ha cangiato un uomo. E per cui prima c'era proprio una dorsale tirrenica. Cioè tutto accadeva altrove. Altrove. Non dalle nostre parti. C'era proprio la cultura. Si produceva a Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino, Aosta. Chi è il più incazzoso dei due? Quello magari più che fa il primo passo. Io sono quello meno incazzoso, quindi non dico chi è il più incazzoso, ma sicuramente io sono... Per differenza. No, no, vedete voi, io sono placido, tranquillo, rilassato. Qualsiasi cosa possa accadere io vado avanti spedito perché sono evoluzionista empatico. Quindi io cerco di portare a casa la pelle. E per Emilio invece ogni spettacolo è come fosse la prima volta. Questo in realtà gli dà merito perché lui ogni volta arriva carichissimo e vuole dare il massimo di se stesso. Quindi Emilio è molto... non è che è nervosetto incazzoso, sta sul pezzo. Così si dice in un tuo rischio. Per dire che tutto accadeva altrove. E' quello che sto dicendo io, per cui sto dicendo uno che voleva realizzare i propri sogni se ne aveva asciuto. Se ne doveva andare. Era costretto ad andarsene, era costretto ad andarsene. E voglio anche dirvi questa cosa. Guardate che andarsene non è una cosa semplice. Non è che i 25 anni fa ero contento, capito? Io quando me ne sono andato è stato un momento triste. Era una piccola sconfitta. No scusa, ma sono asciuto io i tu, sr. Manut. Quindi non è che lo dico io. Lo so io. Io mi ricordo i miei genitori. Si chiangeva, diceva, ma ton quando arrivi a Roma chiama? Perché Roma era l'andana. Pur per noi, anche l'Italia era più lontana di quando non fosse adesso. Pensate che all'epoca Bari-Roma, quanto tempo c'era? Bari-Roma, con il treno, 4 ore e 35. 25 anni fa, pensate. Oggi invece? 4 ore e 35, uguale. Non ha cangiato nuoto. Questo perché gli appennini, sono rumanuti appennini, però dici che devono fare il doppio binario. Avete visto, per concludere, una bella, avete visto un po', avete dato un'occhiata ai vari eventi dell'estate di Palagiano. L'amministrazione ha voluto puntare su personaggi, su artisti di qualità, quali siete voi. Che idea vi siete fatti di Palagiano? Abbiamo il sindaco un rullo compressore quando organizza, va avanti e non si ferma, per dare ovviamente il meglio alla collettività, alla cittadinanza. Intanto a noi piacciono le persone appassionate, per cui il sindaco ha dimostrato di esserlo e questo ci piace, non manco so di che colore, come sia la giunta, però è una giunta entusiasta, appassionata, entusiasta di questa serata, per cui intanto siamo grati di essere la ciliegina sulla torta, così come ci hanno definito. Ma credo che sia stato fatto un lavoro meraviglioso, quando uno fa un lavoro con passione, con dedizione, con... Vince sempre. Vince sempre. No, no, era dicevo, stavo dando ragione a Emilio, vince sempre, non volevo intervenire, tra me e me stavo dicendo, vince sempre, qua vediamo tutti i volti sorridenti ma impegnati. E chi dimenticherà mai la famosa lavagnetta? Chi la dimenticherà? Io non la dimentico. Questa lavagnetta con quel disgraziatello che non indovinava mai neanche una parola e le inventava tutto. Sono Peppino. C'era anche Cosimino. Cosimino, me ne hanno fatto passare di tutti i colori, caro amico mio. Telefoni che volavano. Eh, pure a te con i telefoni c'è delle belle storie da raccontare. Eh, eh, sì, sì. Comunque, me lo ricordo, io me lo ricordo quando io me ne sono asciuto, era un momento triste della vita mia, capito? Stavano i treni, i parenti salutavano, capito? Io ero malinconico, capito? Sì, eri contrito. No, no, stavo da solo, stavo da solo proprio. No! Ero andato da solo. Eri con mestizia. No, sono asciuto da solo, chi sei tu, non stavano con me. Eri malinconico. Come è quello, stavo dicendo, stavo... Mo va passare a coda. Sì, addirittura col trattorino. Col trattorino. No, quella è il... Madonna, santo, veramente. È proprio pure uno della protezione civile. Sì. Magarù, peghina. Comunque, allora... Vabbè, vabbè, andiamo a grazie. Grazie veramente per questo intervento. Grazie a voi. Più che altro è diventato uno speciale televisivo. Alla prossima... Polifemo e venti. Polifemo e venti. Con un occhio... Però Polifemo aveva un occhio solo, quindi... Eh, io ne ho due, meglio, no? Ah, meglio, meglio. Quattro... Quattro... Quattro occhi. Si diceva che chi aveva l'occhiale lo chiamavano quattro occhi. Grazie. Grazie. Viva Taranto. Me lo ricordo come se fosse adesso. Io non ho fatto a tempo a salire sul treno. Beh. Me lo ricordo come sono salito sul treno, che il treno è cominciato a partire. Che è successo? No, uno. Proprio è passato davanti allo scompartimento. Mi ha visto, ha aperto la porta, che c'era la porta scorrevole. Mi ha visto, ha fatto, scusi, ma lei è pugliese. A te, sì. Questo... Aspetta, ora continui il fatto. Ti racconto questa storia. Senti, questo ogni quarto d'ora ci farà accompagnare. Veramente, una location la più giusta. Ricordate, perché dovete morire. Grazie. Allora facevo venirmi in pausa direttamente, capito? Se lo dicevi... Questo è il palazzo del comune, quello orologio... Quello ci ricorda proprio che le tasse si hanno pagato forza. Ogni quarto d'ora, ma soprattutto quell'orologio è stato preso da Palagianello e non è stato mai più restituito. Ah, perciò se l'hanno peghiato forte chi è di Palagianello. Capito? Posso andare? E tra un quarto d'ora tornerà. Madonna, tra un quarto d'ora ci fermiamo, perché questo è uno di quegli orologi che non segna solamente le ore, è proprio pure il quarto d'ora. Anche i quarti. No, sono contento di essere venuto. Grazie, vice sindaco. D'accordo, grazie. Ringrazio da parte nostra. Anche all'organizzazione, proprio, perché ogni quarto d'ora... Però, almeno... Grazie al sindaco la seta. Avremo capito. La seta? La seta, così si chiama. Pace all'anima sua, ovunque gli sia. Se ne è asciutto proprio. No, 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 nel senso che dov'è? A Roma stanno andando. A Roma, a Roma. Beh, vabbè, quindi nella l'andana, capito, appunto, appunto, io me lo ricordo, questo qui... Entrò nello scompartimento? No, non è entrato, sulla porta, questo... Ha aperto la porta, mi ha visto, ha fatto scusi, ma lei è pugliese. A te? Ah, io stavo dai su, te l'ho detto, ma chi sei tu, trito e... Mestizzi, non c'è. Mestizzi, non c'è. E che cosa hai detto? No, io, appunto, quelli erano momenti, non so se vi ricordate, che pur dire di essere pugliese, era una cosa sconveniente. A volte noi ci vergognavamo di essere pugliesi, capito? Buonasera a tutti i cittadini di Palaggiano, intanto il mio è il saluto istituzionale del sindaco che è fuori a Roma per Palaggiano e siamo felicissimi stasera di avere due, come diceva la collega Rollo, due fieri rappresentanti della Puglia, del nostro essere pugliesi. Cilegina sulla torta di un cartellone e io chiudo il mio intervento perché voi siete qui per ascoltare loro, come tutti quanti, io sono cresciuto con le loro battute e quindi gli sono grato di tante cose. L'amministrazione comunale di Palaggiano ha voluto dar vita a un cartellone estivo molto ricco, assecondando le varie sensibilità, i vari gusti e quindi dagli eventi prettamente culturali, più aulici, alla comicità che però stiamo parlando questa sera di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo che hanno una dimensione appunto nazionale. E allora il sindaco, l'avvocato Domiziano Lasigna, non è presente per impegni istituzionali, in quel di Roma ed è validamente sostituito dal vice sindaco Rocco Otto Magnello e dall'assessore alla cultura e al marketing territoriale Patrizia Rollo. Vice sindaco, una scommessa, abbiamo visto un'estate, una serie di eventi estivi che stanno riscuotendo un grande successo, un consenso che è evidente dal numero dei presenti, purtroppo ci sono le restrizioni del Covid e bisogna, come dire, porre un freno, ma questo la dice lunga, proprio la voglia della gente di essere presente, di poter entrare, la dice lunga sulla qualità del cartellone. Ma parliamo dell'evento di questa sera, avremo modo di sorridere. Assolutamente sì, buonasera ai tre spettatori. L'amministrazione di Palagiano è felicissima intanto di ospitare due grandi artisti come Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi qui a Palagiano e di poter offrire la loro performance alla popolazione palagianese e anche so che ci hanno raggiunti degli amici dei comuni limitrofi addirittura, attirati chiaramente dall'importanza dei personaggi che stasera si esibiranno. Noi siamo contenti anche di tutta questa estate, con una serie di appuntamenti, di aver potuto dare un po' di leggerezza anche a un'estate che viene da dei mesi pesanti che, come già anticipavi tu, sono stati per tutti un peso e quindi era giusto che l'amministrazione lavorasse per garantire, proporre un cartellone vario, abbiamo tutti gli appuntamenti di tutti i tipi, abbiamo presentato già una serie di libri, domenica prossima ne presenteremo altri. Stasera diamo spazio alla comicità, quindi l'ampiezza della gamma di proposte ci rende anche orgogliosi del lavoro che è stato fatto, come sempre di squadra, come sempre con l'impegno di tutti e ringraziamo chi ha voluto accogliere l'invito a essere qui a Palagiano con noi. Guardate, i pugliesi sono quelli che se vanno a Milano, dopo due giorni sapranno un milanese, capito? Si vergognano talmente tanto che la loro cadenza, che assumono subito quella del posto dove vanno a vivere. Ma è stato bene. Allora, stasera a Cotoletta, a Polenta, a Milano, andiamo alla madurina, stasera, capito? Poi, quando gli acchiano un pugliese, parlano solamente in dialetto come se non avessero fatto altro nella vita, noi siamo così, noi siamo persone, ma infatti quella ha detto scusi, ma lei è pugliese? E beh, non ti sei vergognato. No signor, no signor, mi è venuto proprio un momento d'orgoglio. Bravo. Mi sono alzato con la mia solita raffinatezza. Bravo, così si fa. Cosa ha detto lei è pugliese? E io ci sono risponduto, sì. No, 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 senti, senti, io ho pensato, se gli devo dire che sono pugliese, giù ha a far capire, giù ha a far capire, guardate, mai vergognarsi delle proprie origini. Ma quello, esatto, non ce l'aveva con i pugliesi, anzi, proprio ha detto, madonna, sei pugliese, hai saputo che cosa è successo in Puglia? Che è successo? Io l'ho guardato e gli ho detto, non ho capito, io me ne sto andando proprio perché in Puglia non succede nulla, ma non vuoi che succede qualche cosa, capito? Benvenuti a quella che è l'ultima serata del calendario estivo del mese di agosto. Io sono Michela Maniglia, sono felice di essere qui stasera insieme a voi, innanzitutto per presentare, Patrizia, due grandi icone della pugliesità. Ma poi proprio per questa serata, per questo clima stasera, questa allegria che c'è nell'aria. L'assessore con delega alla cultura, Patrizia Rollo. Allora, intanto grazie per essere qui, buonasera. E come diceva Michela, effettivamente con questa serata chiudiamo gli eventi del mese di agosto. Ne abbiamo altri due per il mese di settembre. Diciamo che si tratta di un calendario che ha voluto tenere presenti un po' le esigenze di tutti i cittadini. Quindi sicuramente un marcato aspetto culturale per questi eventi. Però un aspetto, o meglio più aspetti, che hanno tenuto conto della musica, che hanno tenuto conto dell'arte letteraria. Abbiamo presentato moltissimi libri. E stasera sicuramente Cigli e Gina sulla torta, la presenza di questi due artisti, che con la loro leggerezza, con la loro ironia, riescono in maniera egregia a essere ambaggianti. Assessore Rollo, cultura è anche spettacolo. E anche comicità a certi livelli. Con questi eventi si promuove il territorio. In questo senso, l'azione forte del marketing territoriale. Perché vedere qui a Palagiano persone provenienti da altri comuni, da altre realtà, promuove il territorio. Assolutamente. È importante, secondo noi, secondo la nostra amministrazione, cercare di sottolineare l'aspetto identitario degli eventi culturali. Ed è molto importante, finalmente, possiamo dirlo, che la nostra meridionalità non sia più oggetto, non dico di derisione, ma come dire, c'era qualcuno che sorrideva qualche volta, sentendo parlare del meridione. Con l'aria di sufficienza. Certo, e invece adesso è evidente che, per una modifica proprio dell'idea culturale che c'è del meridione, tutti quanti noi avvertiamo la fierezza dell'appartenenza ai nostri territori. Quindi, perché no, abbiamo favorito, come diceva Rocco Ottomaniello, abbiamo favorito, anche nella scelta degli autori, i cui testi, per esempio, abbiamo presentato, abbiamo favorito la scelta di personaggi che fossero del posto. Così come stasera, come dicevamo, con questa ciliegina sulla torta, abbiamo scelto due attori, due grandi attori che ci rappresentano, con grande fierezza, ma con un fortissimo carattere identitario. Guardate, io non so se gli appennini forse erano più alti delle altre volte, capito, questo viaggio durava un picco di più, io sono arrivato alla stazione Termini a Roma. La gente, come se non è sceso dal treno, faceva, ma no, no, guarda, io camminavo per la stazione Termini. Così camminavi per la stazione Termini? No, perché io ho pensato... È pericoloso camminare così per la stazione Termini. Perché ho pensato, visto che vengo, metti che faccio due soldi subito. Ah, era una scelta! Allora sì, allora se la gente mi guardava, facevo, guarda, quello deve essere Pugliese, quello è Pugliese, tutto un tratto, tutto il mondo aveva cambiato il proprio atteggiamento nei confronti della Puglia e dei Pugliesi. Dice, qualsiasi cosa era della Puglia, era diventata meravigliosa. E che fortuna che avete a nascere in Puglia, e quanto è bella la Puglia, e come si mangia bene in Puglia. Beati voi, che mangiate sempre le orecchiette con le cime di rap. Bravo, vanno già a spiegare che mangiamo pure qualche altra cosa noi, oltre all'alanzio. E l'olio vostro, l'olio vostro. L'olio extravergine d'oliva. Sì, come è vergine da voi, non è vergine alle altre parti, capo, la gente, tutto un tratto, qualsiasi cosa derivasse dalla Puglia. Funzionale, giofine, cose, era tutto, mandarine, era diventata una cosa meravigliosa, tant'è che uno diventava, no, cominciava a prendere orgoglio, diciamo, di essere pugliese. Mimmo Catucci, assessore al bilancio, al personale e all'agricoltura del comune di Palagiano. Beh, certamente settori amministrativi molto importanti. Beh, questa sera lasciamo da parte i numeri e sorridiamo con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Ci vuole un po' di brio, di sano divertimento. Esatto, bisognava ripartire, bisognava ripartire nonostante le vicissitudini che abbiamo trascorso negli ultimi anni, bisognava ripartire da Palagiano, bisognava ripartire dalla gente, bisognava avere gente in piazza, bisognava organizzare degli eventi, cosa che purtroppo non si è potuta fare l'anno scorso e che siamo riusciti a fare quest'anno sempre, con tutti i vincoli, con tutte le limitazioni del caso, però finalmente Palagiano riparte e gli eventi sono incominciati a giugno, c'è stato un bellissimo calendario estivo con dei cantanti, con dei comici molto importanti e oggi chiudiamo con Solfrizzi e Stornaiolo, due comici di livello nazionale, anche grazie a loro Palagiano riparte. Che vuol dire l'età mia? Allora, lo dico a chi ha qualche anno di più, il vino, il vino pugliese, lo dico a chi se lo ricordo, il vino pugliese, onesto dobbiamo dire, perché il vino pugliese era un vino, secondo, se no, c'è secondo, era proprio un considerato l'ultimo, il vino nostro serviva... Queste zone, era un vino che serviva solo per tagliare quelli nobili toscani, piemontesi, quando anche francesi, venivano di notte con le autobotti, le portavano addirittura all'estero in Francia, ma il vino nostro, noi ci vergognavamo di portarlo altrove, ce lo bevevamo noi a noi, voi vi ricordate che si diceva il primitivo? Sì. Il primitivo, Cusmir, lo dico alla barese perché mio padre, l'avevo sentito da mio padre, Cusmir macchia il bicchiere. Io me l'avevo sentito, questa frase, mentre passavo in cucina e stava a mio padre che glielo diceva a zio Peppino, faceva Peppino, Cusmir macchia il bicchiere. Io sono uscito, mi sono messo a piangere perché ho detto, madonna, mio padre non muore. Perché pensavo fosse avvenenato. No, perché pensavo che un vino che macchia il bicchiere non può essere un buon vino. Non può essere un buon vino. Perfettamente il contrario. E' il contrario, invece... Quello è una qualità organologica. Esatto, ma dire che è genuino. Ma infatti era una cosa... No, il vino nostro, ve lo ricordate? Non ci preoccupavamo neanche di imbottigliarlo. Salvatore Pulimeno, consigliere comunale di Palagiano, delegato allo Sport. Beh, questa sera è una serata di divertimento. Si deve sorridere perché stiamo uscendo dalla pandemia sperando di non rientrare più nelle restrizioni. E' un motivo per stare assieme, per godere di un buon sorriso all'insegna di una comicità intelligente. Eh sì, noi siamo particolarmente onorati di ospitare qui a Palagiano il duo Solfrizi Stornaiolo. Tra l'altro Stornaiolo è già stato qui, portato da me quando ero presidente di Slow Food, in una memorabile Guinness della sfremuta più lunga del mondo. Quindi ci ha già onorato la sua presenza. Ci mancava Solfrizi, eccolo. Abbiamo il cotto e il crudo. Esatto, il cotto e il crudo. Sicuramente ci divertiremo questa sera perché loro sanno sempre come far divertire la gente e magari far passare giustamente, come dicevi tu, un'ora e mezza di spenseratezza dopo questi ultimi eventi che hanno devastato un po' tutta l'umanità. Lo andavamo a comprare alla cantina nella damigiana. Perché pensavamo che non si accattava nessuno, noi lo compravamo nelle damigiane. Com'è? Vi ricordate quello con... Con la, come si chiama, la finta arete, quella da plastica. Con la plastica. Le boccioni da 5 litri. 5 litri. 250 lire. Allora c'erano le lire, capi, tu lo prendevi rossa perché, secondo me, l'orme scavano. Mi schiava. Il nostro... No, lo dì, adesso lasciatemelo dire perché vivendo a Roma c'è proprio l'orgoglio. L'orgoglio di guardare certe cose con uno sguardo, capito, di rivincita, capito? Ebbene, fai. Lo dico perché ci sono amici che rappresentano, insomma, la gastronomia. L'eccellenza. L'eccellenza. L'eccellenza del territorio. Vi rendete conto che in tutti questi anni abbiamo imparato a vinificare non c'è tavola in Italia. In Europa. In Europa, nel mondo, diciamo che non vanti un vino pugliese. Cioè, ma non solamente il primitivo, come si chiama? Vinita. Vinita. Non c'è anno in cui non vingiamo premi. Medaglie d'oro, riconoscimenti. Ma non solo il primitivo. Tanti altri vittenti. Avete imparato a fare il primitivo. No, signor. Il susumaniello. Il susumaniello. C'è un cresceva a primo. Il susumaniello. Il bambino. Il bambino. Come facciamo il bambino? Noi non lo fa nessuno. Ma ce lo invidiano forte. Noi non lo fa nessuno.